Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart in studio Nicola Giannattasio. Il traffico scorre al momento regolare su tutta la rete stradale ed autostradale della Toscana. Fare attenzione per pioggia segnalata su tutta la percorrenza della FIPILI. Sul raccordo Siena-Firenze per lavori è chiusa l'uscita di Poggi Bonzi Sud in direzione Firenze. La viabilità cittadina a Firenze in via dei Panciatichi per lavori di vieto di transito tra via dei Panciatichi e via Vasco de Gama. Chiudiamo con i treni ricordando che per tutta la giornata di oggi la linea ferroviaria Faentina è chiusa tra Faenza e Marradi, previsti bus sostitutivi. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!